Per quel che concerne i divorziati che si sono risposati civilmente, non pochi ribadiscono che bisogna tener conto della differenza tra chi colpevolmente ha rotto un matrimonio e chi è stato abbandonato. La pastorale della Chiesa dovrebbe prendersi cura di loro in modo particolare. I divorziati risposati civilmente appartengono alla Chiesa, hanno bisogno e hanno il diritto di essere accompagnati dai loro pastori. La relazio ante discepitazione del cardinale Peter Erto ha abbracciato i vari e delicati temi al centro della Terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Il relatore generale della Chiesa ha invitato tutti a guardare alla famiglia con speranza e misericordia perché questa cellula fondamentale della società non è un modello fuori corso ma può essere il punto di partenza per una rinnovata civiltà umana. Impossibile, ha detto, non riconoscere i fattori disgreganti che minacciano questo patrimonio dell'umanità. La separazione, il divorzio, una diffusa mentalità egoista che si chiude alla vita con la preoccupante crescita della pratica abortiva, oltre a forme ideologiche come la teoria del gender o l'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio tra uomo e donna. Ribadendo l'indissolubilità del matrimonio, il porporato ha insistito poi sull'importanza della formazione dei fidanzati, così come sull'accompagnamento degli sposi attraverso le difficoltà della vita, precisando che dietro le tragedie familiari c'è molto spesso una disperata solitudine. Infine, data la diversità delle situazioni, il cardinale Peter Erdogan ha evidenziato la necessità di trovare linee direttrici chiare, affinché i pastori delle comunità locali possano concretamente aiutare le coppie in difficoltà, evitando le improvvisazioni di una pastorale fai-da-te.